Cardoneri, ecco il discorso campionati, giovanili, eccellenza e promozioni, si parlava dell'8 settembre, secondo me troppo presto, oggi proprio è notizia di questi giorni, insomma quindi 22 settembre, forse penso decisamente meglio. Allora sì, no, debo dire che come solito un po' in controtendenza con le scelte federali, mi ero anche io lamentato della situazione, anche oggi ho risposto ad alcuni detestati giornalisti che hanno fatto delle domande, però devo dire che ho trovato anche grande disponibilità, ieri ho chiamato il comitato, dopo 5 minuti mi hanno richiamato, mi hanno spiegato al dettaglio la loro volontà e le problematiche relative agli inizi derivanti dalle fine liste che devono essere vincitrici entro una data di maggio, eccetera, quindi il comitato ha preso attenzione da parte di tutti e credo che sia giusto partire il 22. La promozione eccensa inizia all'8 con una serie di motivi, un po' presto però nel discorso diciamo grandi è ben diverso perché non hanno il discorso scolastico, le vacanze diciamo con i genitori non credo che le facciano e quindi sarà un discorso diverso e quindi siamo contenti che il comitato ci ha ascoltato e ci ascolterà in questo. La stagione comunque è pronta a partire, quindi ora un po' di raduni, ovviamente il Fonte Park comunque purla di tanti giovani, quindi tanti visionati dal Fonte Venegliosa perché tanti vogliono venire qua a giocare con questi colori, il giallo e il blu che a noi del Beppe Iola comunque piacciono tantissimo e per quanto riguarda la prossima stagione quindi il roster degli allenatori, gruppi e squadre, quindi darci qualche anticipazione. Allora diciamo che non ci sono stati grandissimi cambiamenti, l'unico allenatore nuovo è Walter Campanina che prenderà l'attuale Under 15 che abbiamo per metà riconfermato e per metà rivoluzionato come stai vedendo da raduno e allenerà l'Under 15 Elite. Per quanto riguarda invece l'Under 14 faremo un lavoro in sinergia di binomio con il mister Stefano Mondella che insieme allo staff lavorerà col gruppo 2-12, un gruppo importantissimo e col gruppo Under 14 che vogliamo riprendere subito la categoria, abbiamo confermato il portiere Mazzotta, richiesto da tutti, 4-5 ragazzi importanti e qualcun altro che sta avvenendo quindi cerchiamo di riprendere la categoria in maniera immediata. Per quanto riguarda il resto abbiamo delle buone squadre, cerchiamo di rimanere in Olimpo delle 32 squadre tra virgolette più importanti di Roma e sarà quindi una sfida ardua ma sicuramente ambiziosa. Nel bienio allievi l'ultima definizione tra l'Under 16 e l'Under 17 con me e Fabrizio Marcucci che gestiremo questo bienio, che è un allenatore molto preparato e giusto di riportare un quale catturina dopo la sofferenza dello scorso anno e anche lui come il mio gemello che terrà Giorgio Neri, la junior, essere allenatore molto preparato, che ha vinto intorno il torto, abbiamo fatto le finali insieme, dopo 4 anni le abbiamo fatte e ora vogliamo tornare a fare, quindi sono due allenatori che dovranno tornare a dimostrare interalmente il loro lavoro perché sanno quanto io ho fiducia loro e non possono sbagliare. Per la prima squadra sarà confermato tutto lo staff, quindi con Federico Ponselli nella preparazione dei portieri ma anche nel settore giovanile, il prof Fabiani, il prof Caviettore Sias che è trovato dal Brasile per aiutarci in questo mese di preparazione in maniera importante, insomma il suo curriculum lo conosciamo tutti, la squadra di professionisti che può mettere in Serie D, ossia mare, è stato un preparato importante e poi tutto il mio staff, l'Aeroport, il mister Giorgio Vesprini e tutte le persone che ci aiutano all'interno di questo staff, quindi nonostante le risorse sempre minoritarie perché la federazione in questo non ci ha aiutato, sperando che disciplini in maniera diversa il minutaggio under, che è giusto, non sia più obbligatorio, però speriamo che sia valorizzato in altro modo, per chi invece come noi investe e si autofinanzia con la vendita e con i premi giovanili, ma faremo affari spenti la nostra beata porca figura, come si può dire, dai. Grazie quindi a Riccardo Neri, non è sempre un piacere parlare con te di calcio, ma comunque di gestione di società sportive come il Fontenove Iosa in pochi anni, grande realtà, un excursus che va anche, quindi siamo tutti italiani, sabato questa partita importante, siamo riusciti a passare con tanta fatica questo girone, quindi un tuo commento da tecnico e da italiano. Da italiano e da ex portiere se può scarso, mi voglio unire a tutti coloro che nel settore stanno sottolineando l'importanza del campione Donnarumma, che secondo me è stato giudicato Donnarumma dal sentimento di voi, siccome è giusto che sia, ma dagli addetti ai lavori bisognerebbe avere un po' più di rispetto perché è un campione veramente unico, quest'anno è stato il mio portiere d'Europa e se non fosse per lui oggi forse saremmo a piangere l'uscita della qualificazione, la gioia di Modric, debbo dire che come ha detto Spaletti ci sono tante cose da sistemare perché la quantità di passaggi sbagliati è immane, però è anche vero che questa è una nazionale che ci farà ben sperare per il futuro, vedo delle buone considerazioni, poi il resto lo lascio agli addetti ai lavori, sperando che ci sia una continuità nella crescita, l'Under 16 e 17 ci fanno ben sperare, speriamo. Grazie Riccardo Neri, in bocca al lupo, buona estate e buon inizio di stagione, quella che sarà quindi 2024-2025. Grazie mille a te, fila di questa intervista, di questa esperienza insieme e di questo piacevole pomeriggio.